Goal Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti Decide di allontanarla Benza al tiro e ci prova Salvati dalla traversa Di nuovo lui E si, trova la rete Sembrano avere il totale controllo della gara Fabio verrebbe da chiedere all'arbitro di anticipare la fine della partita Per noi è bello vedere gol e spettacolo Ma non posso che empatizzare con chi sta subendo questa omigliazione Goal After 21 minutes is Number 83